non c'è non ci vado mai oddio conoscendoti è capace che appena ti vedono spunta un lama non mi stupirebbe si lo sento dietro al mio di dietro le acche che mi dicono quante persone ci sono oppure i passetti io vorrei trovare un'arma se fosse possibile grazie è la pistolina non è il massimo sai ma almeno è una r santo cielo ottimo no ma va bene avete ragione raga io ho delle armi da schifo ma perché e mi rubo pure il suo pompa ecco nessuno guarda nessuno aveva insinuato il doppio senso griso guarda io ho solo una pistola come la vedi no me so baggata dietro al coso tu sei un coso infame ma nessuno dietro è perché davanti invece no in faccia tanto male tanto male in faccia non è una terra madonna madonna mamma mia ah oh è cazzarola un colpo me dovrà entrare pure a me santo iddio immacolato c'è qualcuno che ci spara dietro io mi vado a rintanare nella casa se trovo la porta raga non muore non muore sto scendendo sto scendendo dici no è legale è legale è legale è legale ma quanti scono fanno solo headshot solo headshot no no è un problema raga un problema grosso questo uno è morto 1 è morto muoio anch'io no aspetta eh ma guarda dov'è mi volevo tirare una benda veramente se proprio volevamo essere fiscali eh madonna mia non c'è il gesù cristo no vabbè erano ultimi no non mi potete di così sono lassù sono lassù e venite su un meno non andate sulle montagne non andate venite da giù eh una parola stiamo passando tra le montagne tu mi dici passiamo dal ai esatto dei caprette si mangiavano i vestiti ai pazza che capri violente oh eccola o le salve commento che arrivo senza prender danno eh però è vero io c'è qui è il bianco eh pure io posso se volete ragazzi ragazzi se volete ragazzi venite qua e fermate come le poste di medie vieni qua anche se non so neanche se fosse ok per io ho preso danno usando rampina ah vabbè easy siamo contro quattro ah ok ragazzi ragazzi fermate i materiali come dei matti ecco alla e fa furiosi maniaci i materiali come cioè loro sono proprio nella montagna insieme ragazzi fate le munizioni di scala avete voi 78 ma tanto c'ho solo l'augo io perciò c'ho 108 tenero un po' vieni qua stenghi dove sei non ti vedevo dalla grata la cosa è grave eh grazie lei è molto gentile ragazzi c'ho ci zione qua la porto io per i miei per i miei per i miei per i miei io sei scendine che mediti chris tu hai lo skar mittico mittico ma qua c'è quella che è il finetto di mia ostone cosa c'è? non avevo dubbi ah eh vabbè raga ma che hanno fatto qua il forte dei ci siamo io e l'antonietta che siamo di soppiato eh raga arrivo anch'io l'importante è parlare sottovoce e beh così non ci sentono no così sembra più realistico sembra stare nei film raga mi sento tra james bond james bond eccoli dove 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 avete colpi piccoli se colpi cittino raga io ce no hai colpi cittino no non vale si dai si passiamo un attimo la qualità c'hanno perso ah siamo 3 contro 2 easy vai vai ma che super vediamo che l'ultimo dei due è un pro player ah oh e vabbè non è che sa dovemo tirà però eh 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 guardami dov'è che non lo vedo infatti ti da una mano 25 e la tua mamma però fa certe cose 24 eh vabbè guardami ma che vuol guardi ma che vuol guardi guardi devo schercare la vacca ma che vuol dire ma che vuol dire il mio mille millicoso attenzione all'albero bella c'è quello che sta fa qq7 del gamma quasi rotto le è la ferma ok si è spostato qui sotto agli alberi oh 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 27 bianco questo sta bene sotto non è morto di più è uno qua sotto è mortissimo se gli fai il ciumore è ma sia una certa voi pure morire però ribbio e ho capito però non voglio vieni qua da me vieni qua da me questo qua sotto raga è morto è dove sei aspetta ti do una mano che c'ho solo 63 colpi no non mi piace è uno mortissimo no raga io l'ho rovinato non è possibile che è morto cioè che non è morto una giù ok ah che dolore dietro bella gli ho dato gli ho fatto 160 nella testa non se neanche non se neanche accorre cioè lo vedi che a giocare una partita tranquilla se vince cioè ma io non lo so eh e l'abbiamo e l'abbiamo sudata poi perché comunque questi non è che erano i primi nabbi del eh anche perché a me mi hanno lasciato uno sputo di vita eh eh io non ci avevo più eh io pure avevo finito i medi stavo andando con la mitraglietta silenziata ho detto tutto raga chi se ne frega del il no raga ulti quello che abbiamo viene ammattato ciao